Siamo di fronte ad una battaglia sui diritti, il diritto alla mobilità, ai trasporti, il diritto ai collegamenti rapidi, che sono una delle carenze strutturali più importanti della nostra isola. L'ha dichiarato il Presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganao ad Alghero per sostenere il referendum consultivo promosso dal Sindaco Mario Bruno, che chiede di mantenere a quattro corsie il tracciato della nuova statale Sassari-Alghero. L'iniziativa, promossa dal primo cittadino catalano e dalla sua giunta, ha già visto il sostegno delle forze politiche e sociali del territorio, ma anche di semplici cittadine e cittadini che continuano a raggiungere il presidio per sostenere il completamento della statale 291, così come previsto dal precedente tracciato. Vedere bloccati i lavori per la prosecuzione della quattro corsie Sassari-Alghero sarebbe un dramma, detto Ganao, uno scippo per l'intero territorio assolutamente inaccettabile. Per questo siamo tutti mobilitati con l'unico obiettivo di vedere completata questa importantissima arteria stradale, vitale per tutto il nord-ovest della Sardegna.